Endless love anticipazioni. Ozan e Zeynep si trovano in una camera d'albergo, pianificando il loro futuro insieme. Arriva Onder, che ha scoperto dove si trovano grazie all'aiuto di Emir, che aveva incaricato Tufan di tenerlo informato sui movimenti dei due. Zeynep si mostra gentile e sottomessa al volere di Ozan, e Onder li lascia soli per parlare. Onder vuole stare vicino al figlio, e per non perderlo, lo asseconda. Se Ozan ama davvero Zeynep, e il suo amore è ricambiato, non c'è altro da fare che tornare a casa tutti insieme. Zeynep, che ha ascoltato tutta la conversazione, finge di accettare la decisione con sottomissione, ma in realtà questo è sempre stato il suo vero intento. Nel frattempo, Nian si confida con Leila, raccontandole della relazione tra Zeynep ed Emir. Spiega anche che non intende rivelare nulla a Kemal, per non ferirlo ulteriormente, e non dare a Emir il vantaggio che cerca. D'altra parte, Kemal si confida con Salih, che rimane distrutto nell'apprendere che il suo amore, Zeynep, è ormai sposata con Ozan. Si maledice, per non aver avvertito Kemal, dei suoi sospetti in tempo, per impedire il matrimonio. Kemal, però, cerca solo la vicinanza e la comprensione del suo amico, che considera un fratello, soprattutto perché ormai vede suo fratello Tariq come un traditore. A casa di Nian, finalmente arrivano Ozan e Zeynep, accompagnati da Onder. Vildan, ovviamente, va su tutte le furie, e mentre lei, Ozan e Onder vanno a parlare, Emir accompagna Zeynep nella sua stanza, che condividerà con Ozan. Emir coglie l'occasione per minacciare Zeynep. Se pensava di essersi messa al sicuro sposando Ozan, in realtà si è solo avvicinata di più al pericolo. Emir promette di rendere pubblica la loro relazione, e assicura che Ozan non le crederà. Tuttavia, Zeynep è sicura della sua influenza suo Ozan, e pensa di poterlo convincere che si tratta solo di un trucco di Emir, senza conseguenze per lei. Subito dopo, Emir incarica Tufan di recapitare a Kemal le foto che testimoniano la sua relazione con Zeynep. Il giorno seguente, Kemal riceve una telefonata da Banu, che gli chiede se è stato lui a picchiare Tariq, che si trova a casa sua, dolorante. Emir, che non ne sa nulla, incarica Banu di scoprire tutto e riferirglielo. Sembra che Banu provi veramente qualcosa per Tariq. A casa sua, i due si baciano e finiscono per passare la notte insieme. Quella stessa sera, Emir riceve l'informazione che aspettava da giorni. Karen e suo marito il giorno dopo saranno da un falsario per ricevere i passaporti falsi. La stessa notizia arriva anche a Kemal da Zeyr. A quanto pare l'appuntamento di Karen e suo marito dal falsario sarà molto affollato. Il giorno dopo, mentre Kemal cammina, incontra Nihan allo stesso muro dove anni prima si erano dichiarati amore eterno. Lei è tristissima e lui cerca di consolarla. Per un attimo, fanno finta di essere tornati al passato. Kemal le dice che potrebbero scappare insieme e vivere la loro vita lontano da tutto e tutti. Nihan riesce a sognare per qualche momento, ma poi riporta entrambi alla realtà. Lei è sposata e le loro famiglie si odiano. Non è più tempo di sognare. È tempo di affrontare tutti i problemi. A casa di Kemal, Husein e Fehime sono ancora sconvolti e non riescono a dormire. Non riconoscono più i loro figli. Zeyr si è sposata in segreto e i loro due figli quasi si sono ammazzati di botte. Qualcuno bussa alla porta. È Kemal che vuole passare la notte con loro. Fehime si rasserena e almeno per quella notte gli animi si tranquillizzano. La mattina dopo, Kemal incontra Leila per avere conforto e ragionare su tutta la situazione. Nel frattempo, Zeynep deve affrontare il suo primo giorno a casa di Ozan. Zeynep, già mal vista da Vildan, peggiora la situazione comportandosi un po' da svampita e un po' da presuntuosa. Dà ordini alle domestiche senza riservare loro la gentilezza che Nihan e la sua famiglia mostrano. E risponde in modo sgarbato sia a Vildan che a Nihan. Banu si sveglia al fianco di Tariq e ignora le chiamate di Emir per godersi il tempo con lui. Nel frattempo, Tufan ha già portato a termine il suo primo incarico della giornata. Ha recapitato le foto nell'ufficio di Kemal. Tuttavia, Kemal non è ancora arrivato. E la busta con le foto viene presa da Asu, curiosa ma anche previdente. Asu apre la busta e scopre le foto di Emir e Zeynep insieme. Ovviamente, decide di non consegnarle a Kemal. A casa, Zeynep si prende la libertà di invitare la sua amica Sema. Sema non capisce come Zeynep sia riuscita a sposare Ozan e a insediarsi in casa sua, ma Zeynep non le dà spiegazioni. Sema non si sente per nulla a suo agio in quella casa, notando l'astio di Vildan verso Zeynep, e decide di andarsene per non aggravare la situazione. Dopo la partenza dell'amica, Zeynep viene convocata da Nihan nella sua stanza. Nihan non perde tempo e va subito al punto, chiedendo della sua relazione clandestina con Emir e del suo possibile impatto sul frettoloso matrimonio con Ozan. Zeynep nega tutto e dichiara il suo amore per Ozan, ma la conversazione viene interrotta da una telefonata di Asu che la convoca immediatamente fuori casa. Asu, furiosa, affronta Zeynep. Come ha potuto pensare che il matrimonio con Ozan avrebbe placato la sete di vendetta di Emir? Avvicinandosi a quella famiglia, ha solo aumentato il pericolo per se stessa e compromesso la felicità di Kemal. Le getta addosso le fotografie compromettenti di lei ed Emir, sgridandola per aver peggiorato la situazione sposando Ozan. Nel frattempo, Galip e Onder aspettano Kemal ed Emir per una riunione con gli abitanti del villaggio. Galip rimprovera Onder per non aver sorvegliato abbastanza suo figlio, mettendo in cattiva luce tutta la famiglia. Finalmente arriva Emir, accompagnato da Tariq, cosa che fa innervosire Kemal. Anche Asu arriva, e i partecipanti alla riunione sono tutti presenti. Emir ne approfitta per provocare Kemal, ma questi non si lascia coinvolgere dalle sue malignità. Nel frattempo, Zainep ha convinto Ozan a ufficializzare ulteriormente il loro matrimonio, chiamando i giornalisti e facendosi fotografare insieme. Sema, testimone di questo evento, informa subito Vildan, che agisce immediatamente. Dopo la fine dell'intervista, Vildan avvicina la giornalista responsabile del servizio e la convince a non pubblicare le foto e l'articolo, finché non sarà lei stessa a dare il via libera. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!